Non c'è nessuna epidemia di meningite da meningococco, di nessun tipo. I casi sono pochissimi, assolutamente nella norma e non c'è nessuna preoccupazione. Non c'è scritto da nessuna parte che tutta la popolazione debba essere vaccinata perché non ce n'è il presupposto. Ovviamente queste vaccinazioni sono opportune e già consentite in passato per i bambini molto piccoli. I dettagli li potrete ricevere dai vostri pediatri. Le stiamo estendendo anche ad altre categorie e potete avere i dettagli di queste opportunità dai vostri medici di famiglia. Non vi fate prendere ovviamente dal panico solo perché io sto facendo queste dichiarazioni in televisione. Presentati presso la sala stampa della Presidenza della Regione Puglia i risultati della Commissione Regionale Vaccini, riunitasi per esaminare e proporre il nuovo calendario vaccinale della Regione Puglia del 2017 alla luce del nuovo piano nazionale vaccini e per formulare indirizzi per la corretta gestione delle vaccinazioni contro il meningococco di tipo B. L'indicazione che si è stata data è stata quella di, utilizzando i fondi alla legge regionale di bilancio del 2017, tornare indietro fino ai nati nel 2003. Questo perché, anche se abbiamo una bassissima incidenza in Puglia negli ultimi dieci anni, diciamo che le statistiche internazionali ci dicono che sono le classi d'età più a rischio. Quindi, per ricordare, dai nati del 2014 in poi la vaccinazione è attiva, cioè vengono chiamati i bambini e i bambini tramite le famiglie e vengono vaccinati gratuitamente. Per quelli che sono nati dal 2003 al 2013, la vaccinazione è sempre gratuita ma su prenotazione. Bisogna chiamare il centro vaccinazione della ASA di riferimento, si sa quando ci si va a vaccinare. E l'importante è che non si abbia fretta di vaccinarsi, perché in questo momento non c'è nessuna manifestazione di contagio, di pericolo che ci renda necessario vaccinare in massa. Tutti coloro che vogliono essere vaccinati di questa classe di età, i genitori chiaramente, verranno vaccinati in maniera gratuita ma con un tipo di prenotazione. A questi si aggiungono, come facevamo in passato, anche coloro che vanno nelle zone a rischio, sia che siano studenti, lavoratori o altre categorie, che vengono vaccinati gratuitamente.